Gianluca Pellegrino è una figura assolutamente importante che noi nel corso di queste indagini lunghe e complesse, lo posso dire perché veramente sono durate anni, hanno permesso di capire come il Pellegrino ha assunto il ruolo di reggente di questa nostra famiglia Emanuello. Infatti considerate che in questa ordinanza sono compendiate anche moltissime dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ma non solo quelli oramai più vecchi, tra virgolette, che quindi ci descrivono un Pellegrino Gianluca che già da giovanissimo viene assoldato da Bella Francesco che lo considerava suo figlioccio dentro le fila di Cosa Nostra, tant'è che poi lui viene messo in carcere, sta otto anni e mezzo in carcere, quando riesce verso la fine del 2011 noi cominciamo di nuovo queste attività di indagine che con grande sorpresa, ma poi non tanta, ci fanno comprendere come fosse tornato nuovamente in auge, anche perché in quel periodo è anche vero che duri colpi erano stati inferti al gruppo Rinzivillo e avere un capo nuovo effettivamente serviva. Lui questo ruolo l'ha sicuramente incarnato da mafioso, per come ci riferiscono anche i collaboratori, come vi ho detto prima, ma anche quando esce, e lì volevo riagganciarmi al discorso precedente, ci sono i collaboratori più recenti invece che ce lo inquadrano, quindi anche quando lui ritorna a Gela dopo la scarcerazione nel 2011 come incardinato nella famiglia. Tant'è, vi dico diciamo questa cosa che vi fa comprendere l'importanza della figura del Pellegrino, lui è il soggetto che si va a rapportare con Barberi Alessandro, rappresentante provinciale di Cosa Nostra e da noi poi arrestato nell'operazione Fenice, come ricorderete.